che cosa sono i nutrienti ciao non sono un agente segreto ma ho una missione scoprire insieme a te i misteri dell'alimentazione facciamo luce sui nutrienti ma cosa sono sono sostanze presenti nel cibo fondamentali per l'organismo per crescere e mantenersi bene i nutrienti che ci servono in gran quantità si chiamano macronutrienti e sono carboidrati proteine e grassi i micronutrienti invece sono vitamine e minerali e ce ne bastano piccole quantità approfondiamo le proteine servono per costruire il nostro organismo carboidrati e grassi servono per darci energia e vai con il gioco lo studio il movimento vitamine e minerali fanno funzionare correttamente il nostro organismo registra bene ecco dove pescare i nutrienti i carboidrati li trovi nella pasta nel pane e nella frutta le proteine animali nella carne pesce latte e uova quelle vegetali in legumi e cereali integrali i grassi si trovano nell'olio burro margarina ma anche nella carne pesce e frutta secca vitamine e minerali li trovi soprattutto in frutta e verdura avviso per tutti mangiamo cibi diversi per assumere tutti i tipi di nutrienti